Buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi, domenica 14 ottobre. Allora che cosa è successo sui giornali? Come sempre a tenere botta sui giornali in settembre e ottobre è la manovra finanziaria e tutti quanti i suoi collegati fiscali. In particolare lunedì alle 4 si parte con il decreto fiscale. Il decreto fiscale dovrebbe contenere la cosiddetta pace fiscale oppure condono fiscale, come la volete chiamare. Oggi sui giornali, il Corriere della Sera e non solo il Corriere della Sera, tutti quanti i giornali si interrogano su come sarà questo decreto fiscale sul quale c'è un braccio di ferro in atto tra i ministri del Movimento 5 Stelle che non vogliono fare una cosa superiore ai 100.000 euro, 1.000 euro, piccole cartelle e quindi piccole evasioni e invece l'ipotesi della Lega che qui vi svelo e che oggi non c'è sui giornali, ma è una piccola informazione che mi sento di dare perché ho parlato direttamente con le persone che ci stanno lavorando e questa vera riforma fiscale, il condono fiscale della Lega è un condono fiscale piuttosto particolare e che domani vedremo infine se ci sarà. E cioè loro dicono va bene, rottamazione delle cartelle, rottamazione delle multe, 1.000 euro eccetera, ma loro vogliono fare la seguente cosa, la possibilità di integrare, cioè una dichiarazione integrativa alla dichiarazione dei redditi fatte negli ultimi 5 anni, il che vuol dire che in questa maniera uno ha fatto una dichiarazione di redditi e dice oh, tre anni fa mi sono dimenticato di dire per esempio che avevo 150.000 euro presi attraverso un fatturato che non ho dimostrato, allora quei 150.000 euro vengono poi a sua volta condonati quest'anno grazie a una dichiarazione integrativa che si è fatta rispetto agli ultimi 5 anni. Si tratta di una bomba, chiaramente questa, una bomba che potrebbe dare tante di quelle risorse che altri condoni così come oggi sono congegnati non possono dare. C'è un elemento fondamentale però su cui bisogna ragionare cioè che domani faranno prima il decreto fiscale e poi il draft, come si chiama, il sommarietto di quello che sarà la manovra finanziaria, reddito di cittadinanza, pensioni e questioni di questo tipo che deve essere mandata a Bruxelles per la sua accettazione e valutazione. Vi ricordo che il condono fiscale vale per un anno, non vale due anni, è una tantum e quindi non può essere utilizzato a copertura delle maggiori spese che verranno invece fatte grazie a reddito di cittadinanza in maniera strutturale. Siri oggi parla del condono fiscale, parla di una liqua del 20% fino a un milione, però è ancora, voglio dire, un lato, un bordo, non è esattamente quello a cui veramente stanno lavorando i tecnici della Lega. Su questo ovviamente domani si capirà chi vince tra il Movimento 5 Stelle e il partito di Salvini. Riguardo all'economia vi segnalo anche alcuni giornali che oggi stanno mettendo in evidenza come la possibilità di finanziare la legge Fornero, il superamento della legge Fornero grazie a quota 100, un superamento che vale per 400-350 mila oggi lavoratori, potrebbe essere finanziato da un contributo di solidarietà, una tassa, così mettiamo le parole al loro posto, su coloro che godono di una pensione superiore a 3.500 euro, non 4.000, non 5.000 come era scritto nel contratto di governo, ma 3.500 euro. Quindi si tratta di una tassa vera e propria la cui giustificazione è semplicemente di tipo non populistico, comunistico, comunistico, no? Non è utile che ci inventiamo parole nuove, cioè se tu tassi una persona solo perché ricca e ridistribuisci risorse dopo che ha lavorato per 40 anni e ha goduto di una pensione che probabilmente si è pagato, ecco, se l'unico criterio è quello dei 3.500 euro, il concetto è ridistribuzione dai più ricchi ai più poveri oppure da quelli che sembrano tali, ed è una ridistribuzione non populista, ma molto chiara, molto connotata nella storia del pensiero economico mondiale. L'altra grande questione di oggi è la fine del modello Riace, perché con la circolare del Ministero degli Interni avrebbe detto il Ministero degli Interni, cioè Salvini, basta con tutti questi immigrati a Riace perché non hanno nulla a che vedere con la logica dell'integrazione, delle spartizioni e della distribuzione degli immigrati in questo paese. e ovviamente i sindaci del sinistra sono subito là che strillano e parlano di deportazioni. Deportazioni lo sentire due volte, parlare di deportazioni in maniera così sconclusionata. La prima quando si parlava dei professori che avevano accettato la buona scuola di Renzi e che dovevano lavorare a magari siciliani a Milano. Siamo deportati. La seconda è di immigrati clandestini che non hanno diritto di stare in questo paese e che lo Stato, cioè questo paese, decide dove è meglio che stiano. Queste vengono chiamate deportazioni. Io direi che per rispetto verso coloro che le deportazioni le hanno subite davvero, forse occorrerebbe dare una parola giusta a questa situazione, che non è di deportazioni, chiaro? Non c'entrano un cazzo le deportazioni. Utilizzate le deportazioni per le cose di cui avete il coraggio di denunciare, per esempio difendendo lo Stato di Israele, che non mi sembra che venga difeso, difendendo gli attacchi che continua a subire in continuazione dagli organismi internazionali. No, le deportazioni le utilizziamo, evocando questa nostra cattiva coscienza nei confronti dei gireziani, per una cosa che non c'entra nulla, 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 come il ripristino della legalità in un paese. Vi ricordo che a Riace, non capisco perché i giornali oggi non lo mettono molto in evidenza, su 2.000 abitanti ci sono 2.000 tipo immigrati, e questi 2.000 immigrati sono costati almeno 10 milioni di euro, almeno 10 milioni di euro, il che vuol dire che se noi applicassimo il modello Riace a tutti gli 8.000 comuni italiani, e tolgo i grandi comuni, Roma, Firenze e Milano, applicassimo i 10.000.000 e 8.000 comuni italiani, mi sembra che sarebbero 80 miliardi di euro. Quindi il modello Riace vuol dire che noi diamo 80 miliardi di euro per integrare esattamente lo stesso numero di persone che sono state integrate a Riace. E questo è il modello che volevate applicare? La realtà che il centrodestra dovrebbe dire è che questo non è un modello, è una minchiata, non bisogna avercela con Mimmo Lucano, bisogna secondo me dirgli vuoi farlo? Fallo, non con i nostri soldi, vuoi integrarli? Integrali, vuoi ripopolare un paese? Secondo me non bisogna neanche avere questo pregiudizio nei confronti del suo modello. Lo teneste, se volete ripopolare la Calabria con i nigeriani, fatelo, certo forse non con tutti quei soldi, fatelo, non è un problema, tenetelo in piedi, io sono per l'idea che Riace si tenga i suoi 500, 600, 700, 1000 emigrati, non è un problema per quanto mi riguarda, magari è più un problema gestirli con i nostri centri d'accoglienza che sono gestiti in maniera allucinante. Però poi dopo leggo sulla stampa Panarari, che è una persona molto intelligente, che dice come il villaggio di Asterix è diventato Riace, quello che resiste ai romani, è una bellissima figura retorica, ma la cosa più interessante del suo pezzo è quando dice che Salvini in realtà sta cercando una nuova egemonia culturale, quindi no ai negri, no agli immigrati, le parole d'ordine, sia la pistola a casa, no? La parola negro che è stata, come si chiama dire, sdoganata da Libero. Il punto fondamentale però che io penso, riguardo Panarari, che il problema non è qua imporre una nuova egemonia culturale, è che ci siamo rotti le balle dell'attuale egemonia culturale, per cui si pensa che l'accoglienza non abbia alcun costo, si pensa che l'accoglienza sia banale, si pensa che l'accoglienza non vada a incidere nelle parti più deboli di queste città, nelle parti più fragili della nostra popolazione. Ecco, questa è l'egemonia culturale. L'egemonia culturale è quella delle marce giallorosa dell'accoglienza che abbiamo fatto in questo paese, l'egemonia culturale è che abbiamo preparato fuoco a mare, una minchiata, l'egemonia culturale è che abbiamo reso la sindaca di Lampedusa un eroe. Questa è l'egemonia culturale sulla quale abbiamo vissuto fino ad oggi, caro Panerari. L'egemonia culturale di Salvini oggi è pari a zero, anzi viene ancora considerato il suo circolare del Ministero degli Interni, deportazione, come se fossero sottoposti a delle leggi razziali, cosa che non sono, sono semplicemente sottoposte alle leggi dell'Italia, che sono accettate da tutta Europa. Andiamo avanti, altre due questioni fantastiche a proposito di l'egemonia culturale. Una bomba carta viene piazzata in una sede della Lega dove stava passando Salvini, oggi il titolare bomba carta sulla Lega in prima pagina è soltanto libero. Allora io mi chiedo e vi chiedo, secondo voi se questa bomba carta fosse stata piazzata davanti a una sede del PD un anno fa, due anni fa, o fosse stata piazzata davanti a una sede di qualcuno che veramente gode dell'egemonia culturale, cosa avremmo fatto? L'onda nera, i fascisti che ritornano. No, se avviene la bomba carta davanti alla sede della Lega, chi se ne frega, lasciamo a Feltri ricordarlo in prima pagina. Pensate che io sia un fan totale di questo governo? Ovviamente no, basta vedere la questione all'Italia, cioè oggi continua Salvini un'intervista al messaggero a spiegare che l'Alitalia deve restare italiana e che quindi è d'accordo su Di Maio e sul fatto che ci sia un intervento dello Stato a salvataggio dell'Alitalia. Adesso a me interessa poco delle posizioni di Salvini e Di Maio, penso che l'Alitalia sia molto migliorata negli ultimi anni, che il personale di volo sia diventato un personale tra i più qualificati che ci siano e la puntualità come certificano i dati sia straordinaria. Questi tre commissari hanno fatto un lavoro che ci siamo dimenticati che l'Alitalia potesse fare, quindi sciapo ad Alitalia. Il punto vero, caro Salvini e caro Di Maio, pensare che togli imprenditori privati che non ci sono, togli questi e ci metti quelli nominati da te e da Di Maio, abbi pazienza, un'Alitalia pubblica con le nomine fatte da voi mi preoccupa non poco, tantissimo, perché abbiamo già speso 8 miliardi, 180 milioni di euro all'anno. Ogni italiano ha speso quindi centinaia di euro per sostenere Alitalia una tassa occulta che noi abbiamo da 30 anni. L'idea che noi si debba continuare per questa tassa occulta mi sembra una cosa senza senso. Oggi il PD fa finta di uscire dal suo silenzio, ma il silenzio resta comunque assordante. Intervista di Renzi in cui dice che va bene Minniti come possibile candidato al PD, Minniti che mi ha escluso recentemente a Quarta Repubblica che si candida, Zingaretti che dice che si candida anche lui. Insomma, nulla di nuovo sul fronte del PD se non queste interviste fatte sui giornali italiani che hanno il sapore di aggregare forse quattro reduci che quei giornali tra l'altro non i comprano più. Lo dico con tristezza, io lavoro in un giornale, faccio viceversa di un giornale, pensate un po' voi quanto io sia divertito dal fatto che i giornali non si leggono più, ma secondo me questi lanci, questi messaggi che si fanno tra di loro attraverso i giornali insomma sono alla stregua di quello che potevano essere i pettegolezzi che un tempo si facevano alla buvette di Montecitorio. Più o meno le persone che li leggono e li sentono sono quelli. Shock centrodestra e invece il titolo del giornale perché la prendono sul serio la battuta di Giorgetti, cioè l'uomo forte della Lega che dice che sostanzialmente è rotta la coalizione con Forza Italia e Sallusti dice che Toti, uno dei pochi governatori di Forza Italia del nord, anzi l'unico, è già salito su quella barca, cioè sostanzialmente Forza Italia si sta disgregando e sta quindi diventando la Lega sempre più polo aggregatore rompendo di fatto l'esistenza del centrodestra. Oggi si vota in Baviera, vi segnalo soltanto una cosa cari amici sul voto in Baviera io vi segnalo come vengono trattati i candidati di diversi partiti e soprattutto come viene trattata la candidata dei Verdi. I Verdi sono un partito pseudo comunista, ma proprio pseudo comunista ma come Dantan, cioè quelli con cui tu vorresti, cioè avete presente i comunisti le zecche come dicevano negli anni 80, proprio quelli con la borsa d'etolfa che ti rompono le balle su tutti i tuoi comportamenti, i tuoi costumi, ecco i comunisti. Bene, il Corriere della Sera come tratta? Ovviamente quelli di FD sono i fascisti, i nazisti, gli intolleranti invece la candidata della Verde è la loro leader forza della natura. Io lo trovo fantastico, cioè se tu sei estremista a destra, estremista legittimo a destra cioè non fai parte del Partito Popolare, tra l'altro quello la CSU tedesca è già a destra di suo se tu sei a destra del Partito Popolare sei un nazista, se tu sei a sinistra dei socialdemocratici come questa verde sei la forza della natura, non sei una comunista degli anni 50, non sei una retrogada con ricette allucinanti, ma quel libro rosso che serve ve lo dico io questo libro rosso serve semplicemente agli appunti che mi sono preso leggendo i giornali perché invecchiando uno non si ricorda tutto a memoria. Parlo, abbraccio, però tante di quelle cose gli appunti me li sono messi qua. L'ultima cosa, oggi come sempre la domenica ci delizia Minenna sulla rischio dell'Argentina del devoto argentino e rischi per l'Italia, Minenna come sapete è il nuovo protetto del sole 24 ore della Confindustria per diventare presidente della Consob. Dopo aver fatto fuori due presidenti della Consob attraverso la sua moral suasion e la sua informazione sulla nefandezza della Consob, prepariamoci alle due autoritiche ancora, una delle grandi autoritiche ancora è in cerca di autore e Minenna, grazie a Tamburini sempre sulla prima pagina del giornale, dalla CGL al Movimento 5 Stelle alla Consob. Domani c'è Quarta Repubblica, vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it per tutto il resto delle informazioni e se vi piace questo video condividetelo. Ciao!